Ciao a tutti amici collezionisti e bentornati nel canale, io sono Emiliano74 e oggi andiamo a recensire questa Marvel Legends presa da Avengers Infinity War di Captain America A tra poco ragazzi Ok ragazzi, come al solito diamo un'occhiata veloce alla confezione prima di iniziare ragazzi volevo dire che per chi si fosse perso la recensione di Spider-Man la può trovare all'interno del canale, anzi qui sopra vi lascio la scheda così vi riporta direttamente al video di Spider-Man perché? Perché per chi non lo sapesse ho preso l'intera Wave tranne Iron Man, perché Iron Man non porta con sé il componente di Thanos quindi avendo già in collezione diversi Iron Man non ho ritenuto necessario prenderlo comunque ragazzi, vediamo velocemente la confezione che è la classica confezione delle Marvel Legends il layout come vedete rimane invariato qui vediamo il nostro capitano e qualche accessorio la scritta Avengers Infinity War perché lui è tratto dal film appunto perché non tutti sono tratti dal film, questo è il solito tarlo dell'Asbro ma su questo va bene, passiamo oltre logo Asbro e dietro vediamo la nostra figura in posa l'intera Wave e Thanos una piccola biografia del capitano e per quanto riguarda la confezione non c'è altro da dire quindi andiamo a vedere il nostro Captain American fuori da essa ok eccoci qui con il nostro capitano fuori dalla confezione perdonatemi ragazzi ma mi è sfuggito un piccolo particolare ossia quello di dirvi che il capitano porta con sé la testa di Thanos quindi come vedete numero uno, numero uno che corrisponde alla testa di Thanos non la vedrete perché ovviamente io Thanos l'ho già assemblato quindi lo vedremo poi alla fine di tutta l'intera Wave allora ragazzi che dire di questo capitano, intanto vediamo gli accessori questo è lo scudo che importa con sé non dico da dove proviene perché sicuramente qualcuno di voi non ha ancora visto il film quindi vedere questo scudo un po' anonimo per il nostro capitano può lasciare un po' il dubbio da dove provenga comunque questo è lo scudo che vedrete nel film o che avete visto nel film eccolo qua, realizzato abbastanza bene, diciamo scolpito bene e colorato altrettanto bene queste sono due mani aggiuntive a pugno chiuso eccole qua e passando a lui allora ragazzi se ero rimasto molto soddisfatto con il primo della Wave cioè Iron Spider questo ragazzi non mi piace per niente come è stato realizzato purtroppo qui si vede proprio la totale diciamo mediocrità della Hasbro negli scalte perché come vedete ragazzi allora intanto non ci siamo con il volto non ci azzecca niente con Capitano America si nota anche un leggero strabbismo degli occhi qui si vedono tutti questi tagli qui come vedete questi gap poco simpatici intorno ai capelli ma una cosa che mi ha lasciato veramente la mano in bocca è che qui come vedete la tuta è pensata proprio come nel film per stare avvolta sull'avambraccio quindi questo è l'avambraccio scoperto che dovrebbe avere lo stesso colore della mano o la mano lo stesso colore dell'avambraccio invece come vedete sono due tonalità estremamente differenti e questo ragazzi non va assolutamente bene perché questi ragazzi comunque non sono giocattoli cioè molti forse li scambiano per giocattoli ma un action figure del genere che pretende di costare dalle 25 alle 32 euro prezzo in cui si trovano nel mercato non è un giocattolo perché 32 euro non è assolutamente da considerarsi un giocattolo cioè quindi Hasbro Hasbro e dai e su cerchiamo di metterci un po' più di impegno oramai ne avete sfornate migliaia di queste Marvel Legends comunque la tuta nel complesso non è neanche male ma mi sembra anche un remold di altre tute di Captain America che abbiamo già visto quindi non c'è molto da dire la texture è ben fatta i colori anche sono quelli ovviamente del nostro capitano i stivali sono ben realizzati come vedete qui dettagli qui sulle fibbie che potrebbero tranquillamente essere colorati non lo sono perché non è che poi ci voglia così tanto a colorarli e quindi magari mettere in risalto l'argento di una fibbia e invece niente comunque per il resto nulla da dire a parte ecco qui come vedete la gamba è anche leggermente storta va va in dentro io questa già ho provato a raddrizzarla col phon ed è tornata un pelino all'interno prima stava ancora peggio ragazzi prima stava io l'ho tirata fuori dalla confezione che stava così quindi capite perché dico che non ci siamo va bene speriamo nelle altre figure di trovare una qualità un po' più decente perché comunque con Spider-Man ero rimasto abbastanza soddisfatto andiamo a vedere le articolazioni che è l'unica l'unica diciamo nota positiva di queste Marvel Legends come tutti sappiamo comunque testa a destra e sinistra guarda molto bene verso l'alto lo stesso verso il basso c'è anche un piegamento laterale braccia fin qui 360 gradi rotazione qui al bicipite doppia articolazione al gommito e rotazione della mano con cerniera che ne garantisce la chiusura e l'apertura poi abbiamo il piegamento qui all'addome in avanti e indietro rotazione alla vita gambe si alzano lateralmente di quasi diciamo sì sui 45 gradi frontalmente di 90 doppia articolazione qui al ginocchio rotazione della coscia rotazione allo stivale piede su cerniera più sfera quindi basso alto e piegamento alla caviglia quindi le articolazioni sono l'unica cosa positiva di questa figura ragazzi che vi devo dire a me non mi soddisfa per niente purtroppo questo è il mio giudizio passiamo a vedere quanto è alta questa figura nel frattempo gli ho sostituito la mano gli ho messo quella a pugno chiuso come vedete e lo scudo comunque stiamo sui 7 pollici circa e quindi come vedete 16 centimetri forse 6 pollici e mezzo la compariamo con lo spider man che abbiamo visto l'ultima volta quindi il primo ad essere recensito di questa wave e come dicevo è decisamente migliore questo mi piace veramente tanto eccolo qua come vedete è più piccolino proprio come deve essere ok ragazzi detto questo si chiude qui anche questa recensione vi ricordo che nel canale è ancora attivo per pochissimi giorni mi auguro perché ormai siamo arrivati quasi a 1000 iscritti ne mancano credo soltanto 6 quindi a raggiungimento dei 1000 iscritti verrà estratto il vincitore di questo giveaway qui in alto vi lascio la scheda che vi riporta direttamente al video del giveaway dove troverete tutte le informazioni per partecipare io con questo vi ho detto tutto ci vediamo alla prossima un saluto da Emiliano mi raccomando iscrivetevi al canale non ve lo dimenticate e da Captain America ciao a tutti ragazzi